un bacio a tutti gli amici di Gossip News amante della moda e sempre fashion Pamela Camassa quando l'occasione lo permette si diverte a giocare con il proprio look ci spieghi questa maglietta? che barbie che noia a parte per ricordare Sandra in modo ironico e poi appena l'ho vista mi sono innamorata di questa maglia quindi stasera mi andava di metterla lei, bella come una bambola, non si sente però di rappresentare uno stereotipo tu ti senti un po' barbie? io sinceramente no, devo dire no anche se amo molto le barbie quindi da piccola giocavo sempre è un po' non dico un'icona però beh, bello essere una barbie devo dire che le forme ci sono tutte anche la bellezza è bionda con capelli lunghi però però esistono barbie bionde e barbie moni sì, quelle nuove sì sì Grazie.